salve salve a tutti vi voglio presentare il nostro corso di lavoro a maglia con i ferri circolari di alizia della nostra maestra magliaia e basta andare sul nostro sito sul nostro sito web nella home page scendete giù come ho fatto io adesso andate qui su scarica gratis il corso sui ferri circolari e clicca su continua arrivate sulla pagina di presentazione del corso leggete attentamente e potete vedere anche il video dove spiego tutto come funziona e qua sotto c'è l'iscrizione indirizzo email nome se volete potete inserire anche la data di nascita e cliccare su sì voglio il corso il corso è gratuito è in 11 lezioni arriva una email nella prima email che riceverete dopo pochi minuti dall'iscrizione riceverete la prima lezione e poi riceverete una lezione a settimana per 11 settimane dopodiché continuerete a ricevere informazioni schemi altre lezioni di maglia e uncinetto consigli su lavaggi dei filati sulla sul trattamento sulla lavorazione delle fibre pregiate informazioni su filati eccetera eccetera promozioni che facciamo di tanto intanto sul nostro sito web non vi stresseremo con le mail il corso è gratuito non mi venite a dire poi come sempre ma no c'è qualcuno che sempre dice ma no è una truffa poi bisogna pagare no non si paga niente nessuno è obbligato ad iscriversi il corso io lo farei perché è molto interessante alizia spiega molto molto bene ed è completamente gratuito l'unica cosa riceverete di tanto in tanto una email e dalla quale vi potete cancellare in qualsiasi momento mi raccomando leggete attentamente tutta questa pagina qui c'è anche una piccola descrizione di chi è alizia 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 ha scritto diversi libri sul chiacchierino ad ago ha scritto un libro sul mare sul macramé sul lavoro a a forcella insomma ha scritto diversi libri e insegna sia su facebook sia in presenza a lavoro a maglia uncinetto eccetera eccetera ok grazie